ciao toni ora ti leggo una bellissima poesia l'ho scritta per te perché tu sei un bello vaglione e tutto quando è venito a te a farsi i capelli tutto gato sei venito dai tuoi barberi e allora la devo leggere ora certo certo si ma manager no senza il mio manager non la leggo allora questa piccola poesia quanta 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 vorrei so quanta e me l'ha detto il mio manager scrivice non è bella poesia atto non puoi bere carrile sia il titolo è il barbiere del sorriso tale che bello allora l'amico toni è un barbiere alla moda serio veloce agile nel servire i clienti dove né pagare si paga in contanti quei pochi soldi con il sorriso in bocca e poi tornare di nuovo con tanto amore nel sedessi sopra quella comoda pocciola tutta morbida elegante e soffice assai facendovi un bel sogno tutta la notte svegliandovi serena il tramonto con quel taglio di capelli tutti belli da far innamorare a tante donne quelle che prima mi guardavano poco ma d'ora in poi chiamano alla grande come se fosse un grandissimo attore uno di quelli che si vede sempre nei programmi di questa televisione e tutto questo è merito del barbiere che si chiama per tutti quanti toni il più grande di tutti i nostri barbieri che lavorano con serietà e gentilezza dentro questo lussoso locale pieno di luce gioia armonia dal mattino presto fino a tardasera prendendosi poco per quello che fa sorridendo e scherzando con tutti con la gioia grande dentro il cuore suo quello del barbiere pieno di sorriso nel fare la barba e tagliare i capelli offendogli pure un bel dolce caffè facendogli andare via felici e contenti verso casa sua dove l'aspetta la moglie quella dell'amore vero di questa sua vita dicendo grazie a toni barbiere del sorriso vi è piaciuto vai io o non vi è piaciuto questa polisiacca se vi è piaciuto un like guarda guarda il mio manager un salutone ciao 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 ciao